ecco che lorenzo sta montando le catene perché la strada ormai quando il gioco si fa duro bisogna montare catene appena la strada diventa pericolosa e quindi si perde aderenza è meglio montare subito le catene e si può affrontare tranquillamente tutto il percorso con la duta per precauzione ma è difficile montare le catene perché non so se sarei capace esercitarsi sempre se non improvvisare ecco cioè prima è meglio averle provate a casa con le mani libere e soprattutto non mentre sta nevicando ok ok benissimo e quindi è un gioco da ragazzi da quello che sembra che tu stia facendo o comunque sta nevicando di brutto guardate la strada guardate sta nevicando in maniera spaventosa torniamo qua che lorenzo sta montando le catene ecco ok quindi va montate davanti dove c'è la trazione motore vero dove c'è la trazione ovviamente adesso sembra un lente ci fanno poi dopo qualche metro e dopo si tiene ok benissimo ora andiamo nell'altra ma intanto il montaggio uguale quindi ragazzi noi proseguiamo ciao ciao ciao